Santo Paolo VI, il Papa della Transizione, visse il prima, il durante e il dopo concilio Vaticano II, con lui santo anche Monsignor Romero. Lo ha annunciato oggi il Papa durante il concistoro. La canonizzazione verrà a Roma il prossimo 14 di ottobre, il servizio di apertura del nostro OTG. È ufficiale, la canonizzazione di Paolo VI e dell'Arcivescovo Romero è stata fissata per il prossimo 14 di ottobre. Lo ha reso noto Papa Francesco oggi durante il concistoro. Insieme a due preti, Don Francesco Spinelli, fondatore dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, Don Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco in provincia di Napoli e due religiose, Suor Maria Catrina Casper, fondatrice dell'Istituto delle Poveri Ancele di Gesù Cristo e Suor Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione delle Suore Missionaries Crusadas della Iglesia. Papa Paolo VI e Monsignor Romero saranno canonizzati domenica 14 ottobre in Piazza San Pietro nel corso del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. A 40 anni dalla sua morte, la figura di Paolo VI è fortemente di attualità. Un uomo, un papa che ha segnato il Novecento, fu infatti il papa della transizione. Secondo illustri studiosi, seppe sempre guardare avanti rilanciando il ruolo essenziale della missione. Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini, è il pontefice che ha guidato la Chiesa Universale nel Concilio Vaticano II. È il papa della Populorum Progressio, dell'Umane Vite, ma anche della travagliata fase che visse la Chiesa nel dopoconcilio e del dramma del rapimento e dell'uccisione di Aldomoro. Visitò la Terra Santa, poco dopo l'elezione al Soglio Pontificio, è stato il formatore di un'intera classe dirigente italiana. Un uomo che guidò l'Arcidiocesi di Milano e volle il quotidiano avvenire proprio 50 anni fa. Era stato beatificato il 19 ottobre 2014 da Papa Francesco. Venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo che Papa Benedetto XVI ne aveva riconosciuto le virtù eroiche, sarà santo per il miracolo attribuito alla sua intercessione della guarigione di un feto al quinto mese di gravidanza nel 2014. Oggi la bambina sta bene. Il miracolo, come quello della beatificazione, riguarda la vita prenatale, una sorta di messaggio soprannaturale del Papa dell'Umane Vite, di cui ricorre il cinquantennale. Nei confronti di questo grande Papa, disse Papa Francesco durante il rito di beatificazione, di questo coraggioso cristiano e di questo instancabile apostolo, davanti a Dio non possiamo che dire una parola, tanto semplice quanto sincera e importante. Grazie.